L'amore, l'amore in italiano è le due facce dell'amore, c'è l'amore per possedere e l'amore per dare. Io sono passato da quello per possedere a quello per dare, tutti e due danno soddisfazioni, il primo può dare molti più piaceri, perché quando viene a mancare si sente di perdere qualcosa, il secondo invece no, è più garantito. C'è qualcosa che ti fa vibrare, tu hai il coup de foot per una femme, o tu non l'ai, e tu vas l'aimer un po' e poi d'un coup tu vas vivere con il va grandir, il va cambiare, il va cambiare, il va cambiare, il va cambiare. L'amore non significa solo di prendere cose, il va cambiare, il va cambiare, il va cambiare. Il vanno certo di prendere lo contrario, il va cambiare. più di loro. E magari con la mia mamma, ogni giorno, quando ero giovane, era di fare l'amore, quando ero giovane. Ma ora, non, non. C'è un'altra cosa, di s'exprimer l'amore. Tu mi mi dici come si s'exprimer l'amore. Potremmo gentilità, potremmo un piccolo rilevano. Un piccolo rilevano. Il amore rappresenta molti cose. Quando uno lo demuestra, ti dà un carino o ti fa bene, per me è questo il amore. A volte una persona preoccupa per la salute, per il bene di una persona. Per me, la verità, a miei figli non mi miro, ma non posso dimostrare molto. perché io non ho vivito questa vita, che mi hanno dimostrato, perché, come ho detto, mia madre è morta, mio padre è fuori con un'altra signora, ma non. non lo posso dimostrare. Non lo posso. Non lo posso. Non ce mi sale. L'amore, non lo posso dimostrare. Non lo posso dimostrare una persona particolare. Non lo posso dimostrare. Non lo posso dimostrare a un'amore solo. Malgrò ii detiorei. E' come questo, le cose ha commencé, con la mia tante esposa, a un settembre di G.M. 1995, al detour di un vero in un bar, e sono frappato con la charla di una fenne. E le diso, madame, io sono amore di voi, io voglio che voi sia mia figlia. Una risposta, è una risposta. Se ti piace, non lo faccio, non lo faccio. E le cose è andato fino ad oggi, siamo alla 11e. ma niente. Ma cosa che mi piace è la verità. Quando mi dicono, mi dicono, mi dicono la verità. Non è così che posso me redressare, perché sono un essere umano che ha fatto di qualità e di qualità. Non dobbiamo solo attendere a lei, cheri, io ti amo. Non, cheri, non, bisogna essere dura sempre con me. Ecco, ma guarda, c'è l'uomo? C'è l'uomo? Un leader che commet un errore come questo? E mi metto in questione. C'è l'uomo, che commeterebbe ma attrazione. E l'uomo è un amore. L'amore con la propria compagna è la passione. Quello che sempre mi porta alla differenza è la passione. Se non c'è la passione non riesco a innamorarmi. La passione è immediata, istantanea. Dopodiché si brucia nel giro di 20, 30, 50 anni. Insomma, dipende anche dal rapporto da quanto dà la tua partner e da quanto ti intriga e da quanto ti coinvolge, da quanto si nega e da quanto ti stimola. Però sicuramente per me il rapporto amore e passione è un tutt'uno. non pensi che non è più la passione. E' un bambino che non si può l'amore. E' un bambino che non si può perdere proprio l'amore. L'amor s'entretiene, sì, d'accord, io sono d'accordo, l'amor s'entretiene, ma gli uomini di oggi, non sappiamo che quello che è l'amor. Non sappiamo che quello che è l'amor. Tu devi guardare questo amore, tu devi cambiare la strategia, perché per guardare l'amore, per che sia sempre il feio dell'amore, come vi lo dite, bisogna cambiare la strategia. E se vedi oggi, devi cambiare, devi cambiare, devi fare tutto per che si rilassero. Ma ma che ci si vedi, ci sarà sempre più difficile. Io ho visto che non ci sono un po' di persone, perché non ci sono un po' di persone. Perché non ci sono un po' di persone, ma anche se non ci sono un po' di persone, ma anche se non ci sono un po' di yogurt, ma anche se non ci sono un po' di yogurt, Quando io metto Jeanne, I was young and I was a poet And I was very arrogant I was very, not a very nice person I don't think She was an artist, she was very quiet She was very beautiful Pacific Island people are often very shy And it took a long time for me To get to know her, like many years Really We've been married for 35 years And that's a journey And that's up and down And I think it's often been very hard For her to put up with me We didn't have children For 12 years or something We were really still getting to know each other But I think it's got stronger and stronger And I think the best thing you can say About a partner that you've been with For a long time Is that you're friends And that's what we are And I am sometimes not a great husband But one thing I always try and do Is make her laugh I know if I can make Jean laugh Then that's a good thing The recipes that I have for love In order to cause it to grow And continue to thrive Is to look at it with fresh eyes regularly And to not let the romance slip To remember the things that were important When you first fell in love And continue to practice those things And look at your loved one With love in your heart And in your eyes And do things for them That they totally unexpected And surprise them Surprise them with special notes I love to write little special love notes And put them in my husband's lunch Not regularly Because then it's not a surprise Or spread rose petals Just I think there are so many ways That you can ignite a love And my husband is very quiet And introverted So I love to sing to him And he's almost embarrassed When I sing to him It's so cute But that's one of the things I love to do too And that makes me smile Because I know I can see him Being wrapped in my love And so I love La mia amore è la mia amore. C'è quello che mi ha pensato. L'amore è cercare di non svegliarlo quando mi alzo presto perché io mi alzo alle 6 e cercare, sono quelle cose lì, l'amore oltre il sesso, il sesso capisce che ci deve essere perché anzi, ma non è solo quello, sono tante altre cose appunto di vedere che la persona stia bene, di salute eccetera eccetera e il sesso è importantissimo. Io sono nato e nato in un mondo diverso da Hudsie, quindi non è parte del mio sistema. E quindi, non è in quanto riguarda l'amore, ma è in quanto riguarda l'amore. E io vorrei far più piper che mi rispettano a me. Se sanno i rispettano a me, magari se sanno i rispettano a me, ma non spendo nessuno La mia vita è difficile per me riempire, così mi piace. Se mi piace, sono quel risultato che io sono io e questo è ok. Se non, allora quella è la loro opinione e si sono entrati. Non, non, non sono sicuramente un fattore negativo e affacciatore del mondo. Ma io sono famuestos per 42 anni. Non parlano tutti i amici. Quindi ciò che penso apportero, non mi sono sicura che sia stato perciato come testo di amore. Eteno che io sono la sola di mia famiglia che faccio delle studi, che gano più di soldi che i miei fratelli e so, e anche che i miei parenti sono riuniti, è vero che ho l'impressione che ciò che ciò che mi ha tant di me, come preuve d'amore, sono cose materielle. Quindi io passi molto per il materiale, anche se non ciò che mi piace apporter. Ma non mi sembrava come preuve d'amore, se c'era l'impression che ciò che ciò che mi ha dei soldi e che è radine, perché ciò che ciò che ciò che mi piace. Quindi io passi per il materiale, ma mi piace apporter qualcosa che non materiale, perché è quello che mi ha mancato. Non mi sembrava come? Non mi sembrava come? Mi sembrava come. Non mi sembrava come se ne faccia. Non mi sembrava come chiama. on my knees which I've been I was so sick some time ago that I was convinced for a month that I'm dying and I shared it with a lot of people and all through that time the fighter in me was not here to take care of me it was my family it was my friends they had so much faith in me that I would break I would shatter, I would want to cry and tell them that you know what, you were expecting too much I am not that brave and it was like they were taking care of me, they were there standing between me and my much anticipated death and they just said no to everything that came to take me away from them I mean to me I would have to say I was very interested in royal because I want to care for myself I would be pressing much closer being I can do in my own me feeding me Quindi non ho capito che non ho capito, ma non ho capito, ma non ho capito. Non ho capito, ma non ho capito. Per alcune persone, io sono molto amici, alcune persone non ho capito, alcune persone non ho capito. Se non è reciprocato, non ho capito. Mi ho capito senza amici, non ho capito. Se non è reciprocato, tu non ho capito. Io non ho capito per perdere le persone. Lo ha fatto che non ho capito. Ma non ho capito di farlo, studenti si ravi da una, nessuno è andato, la nostra membra. La prima città! La prima vite in cui si vada a 97 moni miSI pensava pouco oppervere, non allora non c'est mai store! Queste question ourse isle terribles! La terrenza d'un amore. Non, ikut'iaƬvara che non erano… Non c'èwayo io non dono un paio? Dovare più. structuresLe dovete. Anci o Spirito dio anche molte. Ad un pro Relangio ed carino eャ allora mi faimi 주는ere. E similari a mi patba io non so, ma per trovo come mi hanno mai etre molto. C'è un po' di più. This is Erica giving me some of her version of love. There is very much love in Maos. There is a lot of love in Maos. There is no love in Maos. There is no love in Maos. There is no love. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 All'inizia per il vostro processo. Anche in uso di un'obietta, per quanto riguarda i nostri, un'obiettura si può essere uguale. Non è inutile. Per tutto questo, io ho fatto un'obiettura da un'obiettura, quindi non si può essere un'obiettura, di cui non si può essere un'obiettura. ma come noi non siamo molto fatti. La prima volta sempre, come tutti i nostri amici. Quando avevo una palla, i nostri amici, i nostri amici, i nostri amici, i nostri amici. Quando i nostri amici, i nostri amici, Non c'è nulla per la famiglia. L'amore, 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 l'amore... E l'amore è tutto. Se io, non c'è una tua figlia, la mia o mia o mio e la mia, non c'è una tua amore per la mia. Da mia amore, la mia amore è... Non c'è una amore e l'amore. Non c'è una mamma. Amore di un uomo e un uomo è una uomo, Io sono un po' non mi piace molto di dire molto ogni volta, io ti amo. E io preferisco expressare con una comidina, con un carino, con una massaggio, così, questa forma. Come dimostro l'amore alla donna che amo, cucino. Le donne si prendono per la gola, una volta si diceva agli uomini si prendono per la gola. Cucino e cerco di essere una persona decente. Mi sembra già sufficiente per farci amare. Bueno, l'amore, dico, così di magico come è, è anche difficile, no? Perché quando mio figlio è italiano e noi ci troviamo in Parisi, di casualità, io dico che il amore, che ci troviamo per casualità, come dice Cortà Saranrayola. E... ... 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